Sono circa 2.350 le famiglie che non pagheranno il 75% delle bollette dei rifiuti per il 2022. Un'operazione senza precedenti condotta dall'amministrazione comunale che la vede coinvolta nell'aumento del fondo Tari a 470.000 euro. Un bando lanciato il 1 di agosto è concluso il 30 settembre e che inizialmente prevedeva uno stanziamento di 230.000 euro rivolto ai nuclei familiari con un reddito massimo di 12.000 euro, ma il numero delle domande si è rivelato maggiore rispetto al 2021. L'esigenza drastica delle famiglie in seguito a pandemia, inflazione e caroenergia ha portato il Comune ad estendere il bando, accettando così le richieste di adesione di tutte le famiglie pesaresi che presentano un reddito non superiore ai 15.000 euro, di tutte quelle formate da 3 o 4 componenti con un valore ISEE sotto i 20.000 euro e di tutti i nuclei familiari da 5 o più componenti con ISEE sotto i 22.000 euro. Assolutamente sì, tant'è che nella prossima variazione di bilancio che porteremo in consiglio lunedì 28 andiamo a integrare con 180.000 euro le risorse a disposizione del bando e arriviamo insieme ai 60.000 euro ricavati dall'economia e dai servizi sociali a una somma complessiva di 470, una somma importantissima, mai stanziata, ma dà una risposta importante alle difficoltà e alle esigenze dei cittadini pesaresi. È un'operazione alla quale abbiamo fortemente creduto come amministrazione comunale, ma non era scontata. Già dall'inizio abbiamo fatto partire questo bando Tari che era aperto a più famiglie possibili e i numeri sono stati veramente alti perché sono 2.600 le domande e da subito abbiamo capito che l'amministrazione comunale doveva lavorare per dare una risposta a più persone possibili e abbiamo lavorato per recuperare tutte le risorse che erano necessarie. Delle 2.600 famiglie che hanno fatto domanda, 250 richieste sono state respinte perché non in regola con i pagamenti della Tari o perché non hanno rispettato i tempi indicati. Questo 10% complessivo potrà pagare i bollettini da dicembre 2022. Una comunicazione è quella dell'amministrazione arrivata a una settimana dalla scadenza della terza rata prevista per il 16 novembre che aveva provocato confusione tra le famiglie che avevano fatto domanda vista la mancata risposta del comune entro i tempi necessari. Un ritardo giustificato dall'assessore Nobili e causato dall'elevata richiesta di adesione al bando. Non siamo arrivati tardi e volevamo essere certi delle domande ma soprattutto delle risorse che potevamo mettere a disposizione perché volevamo dare risposta a tutte le domande. Siamo riusciti in questa impresa e quindi siamo contenti e spero che lo siano anche i cittadini. Grazie. Grazie. Grazie.